Questo è il Montelauro, questo è il costito che io e Pischetto stiamo ripulendo, si vede che abbiamo... Vedete siamo arrivati a metà montagna dove ci sono gli olivi lo abbiamo come si suol dire stroppato, abbiamo tolto tutte le erbacce, le frasche ma arriveremo fin su dove si può arrivare Ora la roccia è pulita, non più erbe, non più alberi selvatici, ma puliti Veniamo da Idri perché stamattina è stato cattivo tempo, una giornata piovosa e ce ne siamo andati nella biblioteca comunale per ricerche storiche E lì vediamo il mare, vedete il mar Tirreno Quanto è chiaro da qui si vede anche il Vesuvio